L'attività della Polizia Locale di Piacenza per il nuovo comandante ha potuto visionare, insomma è anche un'eccellenza italiana per quanto riguarda proprio la lotta alla contraffazione e i falsi documentali. Assolutamente, è stata un'ottima sorpresa trovare dei colleghi così motivati e così preparati in un settore che non è facile, è veramente molto specialistico e tra l'altro con dei risultati notevoli, rilevanti. Mi fa anche piacere sapere che c'è questa rete a livello nazionale di cui Piacenza fa parte e questa collaborazione fattiva anche con comuni fuori dalla regione, in Lombardia. Allora, Piacenza mi ha entusiasmato, mi ha entusiasmato la città, quindi i suoi castelli, le sue chiese, le sue caserme, mi ha entusiasmato la gente perché vi assicuro che qualcuno mi aveva detto che i piacentini sono un po' chiusi. Evidentemente vengo da una regione dove invece l'atteggiamento di apertura non è caratteristico e quindi invece ho trovato un luogo che mi ha saputo accogliere e anche i colleghi mi stanno motivando con la loro disponibilità a lavorare, a fare. Spero di non chiedergli troppo perché stiamo già portando avanti diversi progetti. L'amministrazione mi ha dato molti obiettivi da perseguire e quindi lì ci stiamo alzando le maniche tutti.